che dobbiamo fare bene? attenzione quanti anni hai? 90 90 che compio il 2 il 19 luglio complimenti naturalmente capirà qualche cosa ha lavorato mai? io si, ho lavorato 90 anni sono duro l'immagine però sta bene e la mia malignità vabbè non la scarichi tu di me adesso io ho dei giorni un po' complighati aspettiamo tra 20 giorni ma prima no ma prima no ma c'è un pegnone e c'è solo l'initazione appunto e non mi scaricava malignità 5 giorni prima però vedi che fuma ancora? fuma ancora è la nasconde però la nasconde però e guarda io mi fanno come una sigaretta e già mi sento sollevato ciao grazie